085-01-9998 per intervenire in diretta, continuiamo a parlare della questione dei tagli delle province, quindi questo capitolo scuola molto dibattuto, farete ricorso al TAR? C'era la possibilità, insomma si ipotizzava il ricorso al TAR. Ma guardate, io non faccio ricorso al TAR, non faccio ricorso a nulla, perché significa sprecare altro danaro pubblico con interventi da parte di legali e quant'altro. Qui occorre soltanto la volontà del Parlamento, occorre soltanto che questi onorevoli, questi senatori che stanno, arrivati a questo punto del maxi emendamento che il governo presenterà sulla fiducia, dicano estrapoliamo questo e si vota in maniera diversa, altrimenti non si dà la fiducia, altrimenti si ha il coraggio di dire a questo governo che non è un governo di tecnici, perché se fosse un governo di tecnici, il governo dei tecnici esaurisce il suo compito e la cassa. Questi hanno già detto che si presentano candidati nei vari partiti, quindi sono politici che stanno preparandosi come poter rimpiazzarsi nei vari partiti, uno andrà al PDL, uno all'UDC, l'altro al PD, l'altro là, in maniera tale, e questo è un governo tecnico, questi sono ministri tecnici, quindi è un governo politico mascherato da tecnicismo, da tecnico, ma è in effetti un governo politico. Questo Parlamento ha tutto il potere di poterli mandare a casa prima, ma siccome non vogliono mandarli a casa prima, perché loro vogliono rimanere sino al 7 aprile, questa è la situazione, quindi la situazione peggiorerà, anche per quella signora che ha detto io per il momento riesco a farlo, per il momento lei riesce a fare, a mantenere, ma nel futuro auguriamoci di sì. Una grande incognita, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio. Professore, secondo le mie umile osservazioni, rivolgerli a lei, la vedrei come ministro della sanità, e per questo le faccio queste domande. I poliambulatori di quartieri dovrebbero essere aperti fino alle ore 20, pagando un ticket, anche come pronto soccorso, per interventi che non siano da sala operatoria, si eliminerebbero molto lavoro dal pronto soccorso, dai vari ospedali e senza passare dai medici di base. Inoltre, i medici, secondo me, ma è un'antica osservazione che hanno fatto in molti in passato, devono scegliere tra l'attività ospedaliera e l'attività dai libri professionisti. I medici di base devono coordinarsi fra loro per avere un servizio sanitario almeno fino alle ore 20 e dopo le guardie mediche fino a mattino. Per una visita specialistica da un libero professionista bisogna, sebbene in un libero mercato, mettere un limite che non sia per una visita da 3 a 5 volte la paga giornaliera di un operaio che deve subire la contrattazione nazionale e non può chiedere al datore di lavoro più di quello dovuto contratualmente. Ecco, professore, vorrei un solo giudizio in merito. Grazie, professore. Grazie a questo intervento. Abbiamo chiamato all'appello una gestione privata della sanità che sia pubblica. Diciamo che questa potrebbe essere... Pubblica, ma una gestione deve essere privata. Sì, sì, no, dico di una sanità pubblica con gestione privata, questo potrebbe essere una prima anticipazione di una gestione privata. Infatti, lasciamo stare la faccenda del Ministro della Sanità perché io sono una persona scomoda, scomoda perché mi rendo una persona libera e quindi incontrollabile. Vabbè, questo è perché lei è una persona scomoda, eccetera, ma se glielo dovessero chiedere immagino che presterebbe il suo servizio. Ma non me lo chiederanno per un semplice motivo, perché non sono controllabile. Parliamo di fantapolitica, se mai glielo chiedessero lei che cosa farebbe? A determinate condizioni, tipo queste doglianze che io avverto e che sento da due anni a questa parte, sì, ma con la risoluzione che io do, che io propongo, non con le risoluzioni che propongono gli altri. Quindi non me lo propongo. Ma le risoluzioni a volte sono anche un po' concertate. Comunque glielo auguriamo, Presidente. Poi verrà qui a Trebari da Ministro della Sanità. Facciamo il lavoro che ci compete, onoriamo questo impegno e nello stesso tempo anche questa fiducia da parte dei cittadini allo Stato attuale. Dico questo perché… Magari dopo una candidatura a sindaco di Bari ci può pensare. Dico questo, ma non state guardando, io ho visto un po' i giornali stamattina, quante candidature ci sono, quante proposte, quanti… Ne parliamo, ne parliamo, adesso rispondiamo al telespettatore, poi ci ritagliamo un ampi angolo su queste pagine. Sono molto d'accordo, sulla maggior parte dei punti li condivido. Io partirei però da un concetto abbastanza semplice. Noi dobbiamo scindere, questa è la medicina del domani, del resto anche l'esperienza statunitense della settimana scorsa mi ha ancora di più confortato in questo mio obiettivo, progetto. Noi dobbiamo scindere la medicina diagnostica da quella terapeutica. Gli ospedali devono servire soltanto per fare terapie, cioè per fare gli interventi, per le patologie acute, per i trattamenti acuti. Tutto ciò che è la diagnostica deve essere fatto invece sul territorio. Sul territorio significa nel quartiere. Quindi quei poliambulatori devono esserci in ogni quartiere, a seconda delle dimensioni del quartiere, uno, due poliambulatori, che devono prendersi cura del cittadino sano e del malato, nel farlo a 360 gradi, nel seguirlo a 360 gradi, con esami diagnostici, con adeguati anche trattamenti che possono essere fatti a livello poliambulatoriale. Quando si passa invece ad un livello superiore, allora c'è bisogno dell'intervento dell'ospedale. Questa è la grande riforma che dovrebbe essere fatta. Intanto avvisa la regia, ho il ritorno audio di un segnale di occupato, probabilmente c'è una linea telefonica interrotta. 080 501 9998 per intervenire in diretta. Stiamo parlando di un potenziale di corso d'altare che lei ha già detto che non farà, invece qual è la sua posizione nei confronti dei presidi? I presidi hanno ragione, ci mancherebbe altro, soltanto che devono concertarsi con noi, non scrivendo, perché scrivendo non serve a nulla, ma anche alzando il telefono, la cornette, parlando con il sottoscritto, rapportandosi direttamente al sottoscritto, esprimendole loro la situazione, lo stato dell'altro, la situazione in cui versano i loro istituti. Dopodiché io ovviamente non ho il potere, non ho la bacchetta magica, dovrò interpellare i dirigenti, i responsabili della situazione e cercare di accelerare questo percorso. Però anche loro devono sapere vigilare sul bene che loro è stato dato, perché noi abbiamo dato in concessione al dirigente l'utilizzo di un immobile. L'immobile deve essere acquistato, ma è come se non avesse, non soltanto la casa, anche se vivessi in uno stabile. Insomma, il capo condominio è responsabile di quello che accade nel condominio, o no? Certo, ovviamente. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Alessandro, posso fare una seconda domanda? No, certo. Professore, ritorno su un argomento che non so se è giusto o meno, ma purtroppo come un disco che si ripete, come un innamoramento a tempo indeterminato, faccio questa domanda. Bari ha il volto del lungomani, i capelli in colore dei tattuzcelli, gli occhi della cattedrale, regina del maestrale, tra le mani ha sempre una rosa, bella come una sposa. Non riesce a trovare un fedele marito che le porti in dote, fede, carità, solidarietà, l'arte e la cultura. E l'amore sincero ed eterno. Professore, secondo il suo esperto punto di vista, colto e sincero, quale oggi potrebbe essere l'uomo adatto a sposare nella basilica di San Nicola, indossando il vestito tricolore della provincia quando è sera. Mia madre, Bari, capitale del sogno di tanti poeti. Grazie, professore. Grazie, grazie per questo intervento. Mi fa sorridere perché è davvero bello ascoltare delle critiche su una città nobilitate attraverso la poesia. Prego. Ma io, onestamente, occorrebbe una concertazione, non ci deve essere il primo, ma dovrebbe concordere più realtà istituzionali ad individuare un percorso e una sola persona nei confronti della quale porre fiducia. Una Bari poligama, quindi. Sì, una Bari concentrata, guarda, dobbiamo rimboccarci tutti quanti le maniche. Non abbiamo capito che il momento è davvero difficile, tragico. Non abbiamo capito che l'anno 21 sarà un anno peggiore di questo, che ne dicano. Non abbiamo capito ancora che mentre le nostre sostanze, le nostre casse diminuiscono, aumentano i costi della vita in senso complessivo, globale, non c'è un miglioramento e non c'è sviluppo ancora, non c'è crescita. Non c'è neppure equità nel momento in cui tutto si fa, ma a danno del ceto medio e della gente che è già in uno stato di sofferenza, già dei più poveri. Noi andiamo incontro davvero ad una rivolta, che io mi auguro sia una rivolta sociale, democratica, ovviamente, ma che certamente non potremmo fare noi, ma che i nostri figli saranno costretti a fare. Allora, andiamo in pausa pubblicitaria per qualche istante e tra pochissimo torniamo qui con il presidente Schitulli. Restate con noi.